Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, ha annunciato una decisione improvvisa durante l'ultima registrazione del programma. La presentatrice ha detto di voler abbandonare definitivamente la trasmissione, senza fornire ulteriori spiegazioni sulle motivazioni che l'hanno spinta a prendere questa scelta. La notizia ha colto di sorpresa tutti i presenti in studio, inclusi i suoi collaboratori e i concorrenti del programma. Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Canale 5, e la decisione di Maria De Filippi di abbandonare la trasmissione rappresenterebbe una grande perdita per la rete. La De Filippi è stata la conduttrice del programma sin dalla sua nascita, nel 1996, e ha contribuito a creare il successo di questa storica trasmissione televisiva. Non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Maria De Filippi alla conduzione di Uomini e Donne, ma si pensa che la produzione abbia già iniziato a cercare un sostituto.